È un testo molto bello, incredibilmente bello a mio parere, della scrittrice americana Lauren Groff. Il romanzo, scusate da voi, è tratto il brano che vi propongo, si chiama Arcadia ed è stato pubblicato qualche anno fa. Era il secondo, forse il terzo romanzo di Lauren Groff, che lei ha scritto, anche di questo papà ne parleremo più nel dettaglio, però lei l'ha scritto intorno ai 38-39 anni, lei dice che l'ha scritto quando era incinta di suo figlio e cominciava a chiedersi in che mondo questo bambino sarebbe entrato, sarebbe arrivato. Lavoriamo su questo testo per quanto riguarda la voce autoriale, vi faccio poi vedere che cosa altri scrittori, anche importanti, pensano di questa autrice, perché qui abbiamo veramente un cavallo di razza, un testo di grande qualità, fin dalle primissime pagine, tanto è vero che il brano che voi affronterete e che poi vi introduco più avanti è proprio l'incipit, le prime 10-11 pagine circa, e vedrete, vi renderete conto leggendolo, che fin da subito Lauren Groff ci fa una dichiarazione di intenti, cioè ci dice che cosa ci aspetta leggendo questo libro. Che cosa ci aspetta? Ci aspetta un libro con una fortissima voce autoriale. La prima cosa da fare quando si deve tradurre la voce autoriale è chiedersi che cos'è la voce autoriale e che cosa non è. Allora, la voce autoriale è fondamentalmente la caratteristica fondante propria di un determinato scrittore. Cioè la voce autoriale è un complesso di scelte che ci fanno dire di una determinata produzione artistica, questa produzione artistica è riconoscibile come la produzione artistica di, non so, Stephen King, o Milan Kundera, o chi volete voi, o Lauren Groff in questo caso. Quando parlo di complesso di scelte, poi vedremo, sono scelte comunque di narratore, di punto di vista, di lessico, eccetera, ma il punto fondamentale della voce è che la voce è appunto unica e riconoscibile, anche se possono cambiare i registri, possono cambiare anche altri elementi del testo, uno scrittore può scrivere molti libri molto diversi tra loro, però di norma la voce rimane riconoscibile. Non sempre questo succede, gli Harmony scritti tutti in serie non hanno mai una voce riconoscibile. I libri come le guida di Alley Planet hanno una voce molto simile l'uno all'altro, anche se sono scritti da autori differenti. Cos'è che distingue gli autori che hanno una voce riconoscibile? Il fatto che la voce riconoscibile, se ben modulata, è non solo riconoscibile, ma determina anche il valore dell'opera. Appunto, un Harmony uguale a tanti altri Harmony sarà anche interessante, appassionante e ricco di colpi di scena, ma molto probabilmente non avrà una voce che ci rimane impressa, che ci ricordiamo, che riconosceremo in futuro, e non avrà neanche un grande valore letterario. La voce autoriale o tono autoriale non è, ricordatevi, il registro e non è lo stile. Molto in breve, perché di nuovo non è questa la sede per fare un'analisi teorica, però molto in breve vi anticipo che lo stile è più che altro spesso legato a, non tanto a un singolo autore, ma a un genere letterario, oppure a una produzione artistica di un certo periodo, ad esempio lo stile horror, lo stile dei romanzi horror, lo stile dei romanzi thriller, in genere l'autore fa delle concessioni allo stile del genere a cui si presta, oppure lo stile appunto può essere una cosa legata al tempo, al momento storico. Adesso, per esempio, va molto di moda, stilisticamente, scrivere questi romanzi in prima persona con il narratore non onnisciente, quindi noi viviamo l'avventura assieme al protagonista man mano che l'avventura si svolge, perché sono spesso addirittura al tempo presente questi romanzi. Il registro, invece, è il complesso di scelte che un autore fa per comunicare un determinato messaggio in uno specifico momento. Il registro è, per esempio, il modo in cui, nell'esempio che abbiamo fatto prima, è il modo in cui Shadwell parla con quel tono un po' ottocentesco. Il registro di Shadwell è allo stesso tempo colloquiale e regionale, ricco di regionalismi, ma anche un po' antiquato. Ovviamente un autore, uno stesso autore, può usare diversi registri all'interno del testo, infatti voi vedrete che anche solo nell'incipit del libro di Lauren Groff sono presenti registri diversi. Ad esempio c'è un punto in cui uno dei personaggi, che si chiama Andy, e che poi vi presento nello specifico, parla, e parla con un tono un po' da guru spirituale, un po' da santone, con i suoi seguaci. Quello è il registro specifico di Andy, ma non è la voce autoriale di Lauren Groff. Da cosa è determinata allora la voce? Dal narratore, dal punto di vista, e da quella che Philip Pullman chiama la stance. Ora, il narratore è ovviamente chi narra la storia, chi la racconta, e può essere in prima o in terza persona, esterno o interno al racconto. Il punto di vista è, anche se la storia è narrata, diciamo, in terza persona, potrebbe essere narrata in terza persona dal punto di vista di. Nel caso specifico vedrete che, per esempio, qui abbiamo una narrazione in terza persona, ma vista dal punto di vista del giovanissimo protagonista, che si chiama Beat, è soprannominato Beat o Little Beat in inglese. La stance, invece, è una cosa un pochino diversa. La stance è la posizione che l'autore assume rispetto al punto di vista che descrive. Cioè, poniamo che un autore stia scrivendo il libro in prima persona dal punto di vista di un serial killer. La stance è la sua posizione rispetto a quella voce. Cioè, probabilmente ci saranno dei momenti in cui potremo intuire che l'autore si distacca dalle idee del serial killer, non è d'accordo con quelle idee, e quella è la sua stance, cioè la sua posizione rispetto a quello che scrive. Ovviamente non è possibile determinare, soprattutto non in breve tempo, come identificare e restituire tutte queste cose quando abbiamo davanti un test autoriale. Ma di nuovo, come vi dicevo prima, sono semplicemente tre cose su cui farvi domande. Perché se voi vi chiedete chi è il narratore qui, qual è il punto di vista, c'è una stance dell'autore? Cioè, mi sembra che l'autore faccia filtrare una sua posizione, indipendentemente da quello che i suoi personaggi dicono e fanno? Già farvi queste domande vi aiuterà, non voglio dire istintivamente, però forse in maniera quasi subconscia, a scegliere le parole giuste, a avere il lessico giusto e a restituire il brano nel modo più corretto possibile.